ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video io sono one sunny tube e vi do un benvenuto in questo canale prima di tutto iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arrivano le notifiche in temporale mi sposto un po' attivando la campanellina parlo per tutti i tifosi iscrivetevi tutti perché siamo a 33 iscritti raga aumentiamoli questi iscritti aumentiamoli e puntiamo a 100 quindi dai ecco le iscrizioni mettete un bel pollice in su parlo per tutti i tifosi iscrivetevi tutti milanisti juventini interisti napoletani bergamaschi laziali romanisti fiorentini bolognesi tifosi del monza tifosi del sassuolo torinesi udinesi iscrivetevi tutti non vi costa nulla allora questa non è una live reaction tranquilli la live reaction la pubblico dopo questo video qua e allora pre partita ecco pre partita perché tra poche ore ragazzi si gioca udinese milan queste sono le classiche partite in cui tu potresti steccare si si puoi steccare perché perché puoi steccare perché questi qua ragazzi l'altra volta hanno pareggiato contro la fiorentina non è che la fiorentina sia una squadra scarsa è per carità ma hanno pareggiato con la fiorentina già significa che quando vedono quando l'udinese vede il milan diventa real udinese non so se avete capito aspettate attimo appunto sarà una partita dura partita dura le probabili formazioni adesso ve le faccio vedere allora probabilmente so che è un 4 2 3 1 quello che farà il milan so già questo allora vediamo un po andiamo qui aspettate aspettate non fatemene pentire magari allora probabili formazioni speriamo bene ragazzi io la vedo dura onestamente questa stasera e la vedo onestamente dura allora l'udinese si presenta con il portiere okoye difensore di destra ferrera difensore centrale perez difensore sinistra christensen esterno destro e bosele mezz'alla destra lovrich centrocampista centrale wallace mezz'alla sinistra paiero esterno sinistro camara trequartista per era e attaccante lucca l'udinese fa un 3 5 1 1 quindi a quelle ci sono in attacco in attacco con lucca unica punto supportato da perera e confermato eccetto un campo visto perezze con l'eccezione san margidolo a partire dalla panchina per scelta tecnica dentro paiero ancora coi tre pari così come tre di pensi occorre la perezze christensen invece noi ragazzi schieriamo come sempre il magico portiere magic mike terzino destro calabria difensore centrale simon kier difensore centrale matteo gabbia terzino sinistro nostro treno treno trenino super treno frecciarossa teo hernandez centrocampista centrale il pittore yassin adli il nostro geometra tijani reinders centrocampista centrale e un altro centrocampista centrale pittore adri adli sinagli capitana america alla destra pulisic trequartista loftus chic il nostro leao alla sinistra e punta giro attaccante non è appunto 4 2 3 1 quindi praticamente la stessa formazione che avevamo schierato quando avevamo battuto la roma per 3 1 in pratica e nulla su tutto questo sarà dura ripeto non perché perché veramente sono così le cose cioè praticamente se guardiamo le statistiche l'ultima l'abbiamo persa a salsiro 1 a 0 mi ricordo se non ero buono lo so comunque 9 amo vinto non mi ricordo buono stesso uguale però prevedo una partita abbastanza tirata perché lo so che so che comunque ci portiamo a meno 6 da quelli la però vedo abbastanza dura udinese milan una partita veramente ostica già col torino è un po più complicato però con l'udinese ragazzi lo so che le aspettative sono troppo alte però la vedo abbastanza dura poi loro loro comunque tengono abbastanza giocatori buoni e l'udinese non scherza per quanto riguarda il mercato dell'udinese ragazzi non so se ne avete già sentito giusto per parlarne un po perché comunque di calcio mercato io non ne parlo mai in questo canale per fare un po di infarinatura diciamo per quanto riguarda l'udinese pafundi il nostro giocatore pafundi è verso verso losanna non so se un presito con diritto di riscatto ma penso che pafundi se ne andrà via da udinese andrà dalla la losanna e ragazzi si un altro gioiellino italiano se ne va un altro talento italiano promettente giovane se ne va andrà la losanna queste sono alcune indiscrezioni che ho letto ultimamente e per il resto speriamo ritornando alla questione partita speriamo ragazzi speriamo di poterla vincere perché leao se parliamo un po di leao ragazzi ultimamente non è che mi sta facendo impazzire molto perché non riesce a dare già praticamente non segna da tanto e questo preoccupa abbastanza però ragazzi è anche ultima ma non so se avete letta questa notizia per noi milanisti non so se avete letto questa notizia giro ragazzi è molto tentato ad andare in mls e voi direte come faremo dato che nel mercato estivo chi prendiamo chi prendiamo io vi ci non può giocare tutte le partite è giovane l'abbiamo capito ma serve un altro un bomber vero in questo milan ragazzi manca un bomber vero giro ragazzi per carità all'età di 36 anni giusto che vada un po a fare un'esperienza in mls perché è giusto che sia per la sua carriera però meno fare di giro prendere comunque un attaccante di esperienza di esperienza non troppo giovane ma comunque un attaccante di esperienza sarebbe il caso giusto che faccia per il milan e per il resto cosa dovrei dire c'è intanto mi sto guardando roma roma verona bello comunque per il resto non altro non ho nient'altro da dire iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da non perdervi nessun contenuto che pubblico in questo canale ragazzi siamo a 33 iscritti aumentiamo e aumentiamo di questi iscritti ok a raggiungimento dei 40 già mi va bene però ragazzi aumentiamoli aumentiamo di questi iscritti ragazzi mettete anche mi piace nessuno mette mi piace in questo canale mettete mi piace mettete mi piace per supportare il contenuto parlo per tutti i tifosi milanisti juventini interisti napoletani bergamaschi laziali romanisti fiorentini bolognesi iscrivetevi al canale attivando la campanellina e ci vediamo dopo per la live reaction di udinese milan naturalmente la partita è stasera quindi da one sunny tube è tutto ciao